Sette coltellate, quattro alla schiena, una alla nuca, una allo stomaco ed una in petto. E' morta così Ermene Gilda Candreva, 76 anni, conosciuta Capaccio Pestum come Gilda e uccisa da sua nipote, una ragazzina di soli 17 anni. La tragedia si è consumata in via Tavernelle, strada al centro della vita cittadina di Capaccio. Erano circa le 19, quando al termine di una lite la giovane ha afferrato un colterro al terramanico ed ha colpito la nonna. Dopo la tragedia, con i vestiti intrisi di sangue e con una profonda ferita al braccio, la ragazza è uscita in strada stravolta per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a soccorrere la ragazzina trasportata in ospedale. I sanitari hanno provato a salvare la 76enne, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Immediatamente sono arrivati sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabio Lagarello. La salma della 76enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli ed è stata posta sotto sequestro. La 17enne, dopo essere stata medicata, è stata arrestata e tradotta al carcere minorile di Nisida. Sul posto anche Iris, la comunità di Capaccio, è sconvolta per quanto accaduto.